ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti di frolla allo zafferano il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono zucchero semolato farina di doppio zero scorza di limone zafferano in polvere vanillina burro uova lievito per dolci e sale andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10 rinuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il burro la farina la vanillina il pizzico di sale le uova lo zafferano in polvere e il lievito per dolci azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 la frolla è pronta formiamo un panetto avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti trascorsi il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno adesso con l'aiuto di alcune formine andremo a ritagliare i biscotti e proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto una volta formati i biscotti li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 12 15 minuti circa i biscotti sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servire biscotti di frolla allo zafferano grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti